Ecco così partita l'ultima batteria della salute femmine, possiamo presentare quindi la prima delle tre batterie preveste per la categoria assoluti maschi. In corso due Riccardo Pappi, alla tre Leonardo Ricci, alla quattro Mattia Santi, alla cinque Alan Guidi, alla sei Lorenzo più in erba. 5, Urbanetto alla sei e Magogra alla tre, sono in quattro più o meno sulla stessa linea, davvero pochissimi centesimi le dividono, vediamo chi tocca avanti, per un centesimo Masetti uno quattro e tre e quattro, quindi Rombaldoni quattro e trentacinque, Urbanetto quattro e quarantacinque, Magogra quattro e quarantasette che è anche l'ottavo e ultimo tempo utile per la fine, se tutto confermato.